L'analisi di ConfCommercio non lascia dubbi sull'andamento negativo del commercio a Sassari come anche a Cagliari. Lo studio che prende in esame il trend dal 2008 al 2015 di 40 comuni italiani di medie dimensioni inserisce nei primi 10 proprio le due città sarde. Cagliari all'ottavo posto registra un meno 22,4% e a seguire al nono Sassari con un meno 22,3%. Ad avere la peggio sembrano essere i centri storici, il capoluogo turritano registra dentro le mura un meno 15,8%, Cagliari meno 8,7%. Ma in entrambi i capoluoghi sardi non sorridono neppure le altre zone decentrate. A Cagliari frena anche il commercio ambulante, meno 8,8% nel centro storico e meno 25,2% nelle altre zone, mentre a Sassari cresce rispettivamente del 72,2% ed è stabile altrove con lo 0,4%. Nel complesso a Sassari il commercio al dettaglio è sceso del 15,3% nel centro storico e nel resto della città del 13,2%. Cresce invece nel capoluogo del nord-ovest la ristorazione, i bar e gli alberghi che nel 2008 erano 180, nel 2015 se ne contano 209 nel centro storico, mentre fuori le mura da 404 sono aumentati fino a 472. Ma i numeri complessivi di commercio al dettaglio, ristorazione, bar e alberghi confermono il trend negativo che a Sassari all'interno del centro storico registra un meno 7,4% e nel resto della città meno 4,4%. Nel capoluogo di regione rispettivamente meno 9,8% e meno 3,6%. Lo studio conferma il sentimento negativo diffuso dietro le saracinesche che tra i commercianti sassaresi è ormai palese. A livello nazionale dall'analisi dell'ufficio Studi Conf Commercio emerge che tra il 2008 e il 2015 nelle medie città italiane i negozi in sede fissa sono diminuiti del 15%, ma c'è un vero e proprio boom del commercio ambulante, accoppiato a una crescita rilevante del turismo ricettivo, soprattutto nei centri storici.